Musica Rubano una borsa con oggetti preziosi per un valore di 30.000 euro arrestati a Napoli, tre uomini accusati anche di reati simili in tutta Italia Ritenuti pericolosi, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari Ci potremmo salvare solo nel segno della fratellanza universale Nel messaggio per le festività, il Vescovo Trasarti ricorda i potenti che senza scrupolo hanno il coraggio di ordinare fuoco, sapendo di seminare morte La realtà cambia se cambiamo noi, ha detto, dobbiamo aiutare le persone più fragili che incontriamo sul nostro cammino Pasqua in famiglia e poche gite fuori porta Tafano e Senigallia si resta a casa con amici e parenti D'altra parte, gli hotel si preparano ad accogliere i turisti anche grazie agli eventi sportivi organizzati nella provincia di Pesero e Urbino Io sto in famiglia con i miei nonni a Gubbio Che sono di Gubbio Invece tu? Io sto a casa con la mia famiglia Dall'arte alla cultura, dallo sport all'inogastronomia Amarotte e Mondolfo, oltre 200 eventi animeranno la stagione estiva Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Sono stati arrestati a Napoli Tre uomini accusati di aver rubato in piazzale Carducci a Pesero oggetti di valore ai danni di un rappresentante di Gioielli Un 53enne di Perugia Gli indagati sono tutti senza lavoro e già responsabili di fatti analoghi in altre città d'Italia Filippo Pucci E che ha richiesto notevole tempo e anche molti mesi di lavoro per poter giungere alla sua individuazione ma comunque i responsabili sono stati assicurati alla giustizia Avevano dormito in un hotel mostrando documenti falsi Poi avevano pedinato la vittima un rappresentante di preziosi attendendo in via Curiel a Pesero il momento perfetto per colpire E proprio mentre lui stava caricando in macchina una borsa tracolla contenente oggetti di un valore complessivo di 30.000 euro uno dei malviventi era entrato in azione e gliel'aveva rubata Subito dopo era salito in sella ad una moto condotta da un complice anche egli con abiti scuri e un casco integrale dopodiché si erano dileguati verso la periferia Sono accusati di furto con strappo i responsabili del reato messo a segno il 15 aprile dello scorso anno Gli investigatori della squadra mobile avevano iniziato fin da subito ad eseguire tutti gli accertamenti del caso per ricostruire gli elementi fondamentali di un fatto che apparentemente non consentiva di risalire agli autori del gesto visto che viaggiavano a bordo di una moto con targa clonata e a volto completamente coperto Inoltre il modus operandi utilizzato dagli indagati è risultato professionale ed esperto nel nascondere qualsiasi dettaglio che potesse essere raccolto dagli agenti rendendo quasi impossibile la loro identificazione È un tipo di reato che si connota per questa caratteristica appunto di essere itinerante sono trasfertisti quindi cercano di occultare in tutti i modi i propri connotati fisici e anche rendersi assolutamente riconoscibili proprio per evitare e rendere molto più difficili le indagini È iniziata così un'analisi capillare di tutte le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza un lavoro che ha consentito di individuare l'auto di appoggio noleggiata a Napoli condotta da un terzo complice dopo aver individuato l'albergo in cui avevano alloggiato il terzetto prima di giungere a Pesaro per mettere a segno il colpo i poliziotti sono riusciti a ricostruire il percorso effettuato dalla banda i tre ritenuti responsabili del furto sono stati rintracciati a Napoli la loro città di origine hanno tutti i precedenti penali sono senza un lavoro e hanno già commesso fatti analoghi in altre città d'Italia vista l'alta pericolosità e la professionalità emersa durante le indagini il GIP del Tribunale di Pesaro ha emesso nei loro confronti la misura degli arresti domiciliari scontro tra scooter e furgone oggi poco dopo le 14 in strada a Ponte della Valle a Pesaro ad avere la peggio è stato il minorenne in sella alle due ruote che è stato trasportato in neliambulanza al torrente di Ancona sul posto anche la polizia locale i vigili del fuoco che hanno aiutato i sanitari del 118 a trasportare il ragazzo immobilizzato sulla barella verso il campo in cui è atterrato Icaro Questa mattina nell'area sottoposta a sequestro nelle campagne di Monte Carotto in provincia di Ancona si è svolto un sopralluogo condotto dai carabinieri del Risse e da quelli di Iesi alla presenza del PM Irene Bilotta che coordina l'inchiesta sulla scomparsa di Andrea Rabciuk la 27enne romena di cui si sono perse le tracce dalla mattina del 12 marzo in azione come riporta l'Ansa anche un canne molecolare nel terreno ci sono un casolare diroccato e una roulotte usata per feste private lì Andrea ha trascorso la notte tra l'11 e il 12 marzo insieme al fidanzato Simone Gresti un autotrasportatore di 43 anni ora indagato per sequestro di persona e un'altra coppia durante la serata alla 27enne il fidanzato avevano litigato continuamente finché all'alba la ragazza si era allontanata a piedi lasciando il telefono al compagno secondo Simone Andrea è viva e si sta nascondendo infatti sta usando anche alcuni profili social per gli investigatori rimangono aperte tutte le ipotesi invece la guardia costiera di Ancona durante un controllo ha scoperto delle reti calate in mare da pescatori sportivi che non avevano i permessi erano state posizionate nello specchio acqueo antistante la spiaggia del passetto i militari quindi hanno sequestrato le reti per una lunghezza complessiva di 300 metri non dobbiamo rassegnarci all'idea che questo mondo non possa vincere la violenza solo nel segno della fratellanza universale ci potremmo salvare è il messaggio del vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola Armando Trasarti che in occasione della Santa Pasqua ha ricordato le vittime innocenti della guerra si arriva anche ad uccidere uomini donne e bambini ha scritto il vescovo pur di affermare potere potenza economica e supremazia militare se non possiamo far nulla ha dichiarato Trasarti per fermare la mano di potenti che senza scrupolo seminano morte mentre chiederemo a Dio che ci perdoni per la malvagità di cui siamo capaci faremo il possibile per toccare la mano delle persone più fragili che incontriamo sul nostro cammino e senza inutili chiacchiere ma con i fatti e nella verità fargli sentire che la vita umana è sempre il bene più grande da custodire e del quale prendersi cura solo allora potremmo dire in verità di celebrare la Pasqua del Signore non c'è benessere possibile ha proseguito nel messaggio fino a quando il nostro cuore non si convincerà che dovrà adoperarsi con tutte le sue forze a promuovere la fraternità universale e non c'è inferno peggiore di quello che abita in chi ha lo sciagurato coraggio di ordinare fuoco sapendo di seminare morte il primo passo per trasformare la realtà è innamorarsene perché ha concluso Trasarti la realtà cambia se cambiamo noi continuiamo a parlare delle festività di Pasqua la maggior parte dei fanesi che abbiamo intervistato rimarrà a casa in compagnia di amici e parenti in pochi infatti hanno organizzato un viaggio o una gita fuori porta dopo due anni tra lockdown zone rosse restrizioni anti-covid si inizia a tornare alla normalità i numeri sono ancora lontani da quelli registrati nel periodo prepandemico visti anche rincari generalizzati ma secondo un'indagine di Federa Berghi gli italiani che si metteranno in viaggio saranno circa 14 milioni e di questi il 25% approfitterà della vicinanza con il 25 aprile per allungare la vacanza di altri 7 giorni quasi il 90% sceglierà di restare in Italia mentre il 10% partirà per una località estera le mete preferite per chi rimarrà nel nostro paese saranno quelle di mare seguite dalle città d'arte e la montagna per chi invece si recherà all'estero a vincere sono le grandi capitali europee con il turismo che si conferma un volano eccezionale per l'economia a Fano però nonostante il bel tempo e il ponte pasquale in molti resteranno in zona e la Santa Pasqua verrà trascorsa per lo più in famiglia resterò a Fano a lavorare quando ho finito di lavorare raggiungo la famiglia e poi il giorno dopo Pasquetta si rilavora dove va a lei? Vigevano quindi quanti giorni starà? parto venerdì rientro lunedì pomeriggio perché ho mio figlio che lavora su e allora vado a trovarlo e approfitto delle feste a casa? in famiglia? sì tutto normale insomma nessuna uscita fuori porta piatti tradizionali quindi quali sono? la mamma non lo so non lo so vediamo quello che farà lei insomma di solito sì comunque io sto in famiglia con mia nonna Gubbio che sono di Gubbio invece tu? io sto a casa con la mia famiglia tutti a casa sua sono? no io vado a casa da loro quindi questa volta loro devono cucinare? lavorano sì sì da me sì stavolta sì adesso mi riposo perché sono stata male mi devo riposare lo sono invitata io in famiglia a casa con i miei familiari con la mia famiglia cosa si cucinerà? cappelletti in brodo e poi vediamo insomma oppure fava fava formaggio insomma vediamo invece lunedì di Pasqua sempre a casa o una piccola gita? no no niente gite le gite le facciamo quando è più caldo ancora è freddo è in famiglia la Pasqua è in famiglia le feste che considero importanti comunque sia secondo me vanno vissute in famiglia girerò per Fano farò qualche giro proverò a stare in mezzo a qualche locale vedere un po' com'è la situazione adesso con la libertà che ci hanno dato ah no noi lavoriamo è sabato e domenica lavoriamo sempre allora quindi niente di nuovo niente di niente io lavoro anche lei lavora eh sì beh io lavoro in ospedale trasporto materiale ospedaliero quindi proprio in servizio sì per forza il giorno di Pasquetta Pasqua sono a casa fortunatamente cosa farà quindi a Pasqua con i familiari? con la famiglia sì sì con i genitori la moglie le bambine la suocera tutti dove vorrebbe andare? ah non so Milano Roma perché sono giorni di festa per cui per cambiare aria giusto per cambiare aria sì passeremo in famiglia senza andare in qua in là in giro nei vari locali perciò tranquilli cosa si cucinerà in famiglia? ma penso in capletto agnello eh con i vari contorni vino eh vino rosso della zona eh la murretta eh gran finale la colomba con spumante no rimarrò con la famiglia e con i miei quindi tutto come da tradizione come da tradizione a Pasqua non a Pasquetta Pasquetta invece? si va in giro con gli amici sempre per Fano? per Fano e qua intorno penso sì vado in Liguria a trovare amici a fare parenti poi dopo il mio compleanno Pasqua ah quindi tutta una una festa sì 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 e invece tu? io lavorerò e quando festeggia lei la Pasqua? il martedì? molto probabile allora buone feste comunque ragazzi altrettanto anche a voi e anche a Semigaglia molti residenti rimarranno in città probabilmente sfrutteremo il mare quindi ci faremo una bella passeggiata e staremo al mare senza dubbio in zona o andrà fuori? no 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 assolutamente in casa nonni al lavoro starete con la famiglia anche a Pasqua? sì ma sicuramente sì che cosa farete? ma niente di particolare solite cose una passeggiata sul lungomare? anche anche insieme a questa splendida creatura? sì sì eh? nonno di che dici? saluta ci aspetta un lungo weekend avete progetti? io personalmente no visto che è un po' che sono fuori per lavoro quindi ne approfitto per stare in famiglia lei invece? io in famiglia ritornano dei familiari che lavorano fuori quindi approfittiamo per una rimpatriata non esco come mai? ma aspetto più in là per andare in vacanza domenica vado a pranzo fuori rimarrà in zona o una gita fuori porta? a seconda di dove arrivo senza nessun programma dove vedo un posticino carino mi fermo da solo o in compagnia? o mia moglie sempre pranzerò con le mie figlie che vengono da Milano trascorrere la Pasqua qua a Senigallia io vado qualche giorno a Macerata c'ho un'amica laggiù la passo laggiù e non è tanto distante comunque una gita fuori porta? meglio che niente a casa aspettiamo nostra figlia che studia a Venezia per cui ritorna a casa per qualche giorno quindi in casa progetti per le vacanze nei prossimi mesi oppure non si pensa a questo? no no ancora no sinceramente no io sono di Bergamo e sono venuta alla casa al mare e godrò questo sole questa meraviglia di mare quindi ama Senigallia? molto molto sì sì è una gita che viene qui e sì e quanti anni sono signora che viene qua? allora sono vent'anni andiamo a una festa così festeggiamo ecco lei oggi è in bicicletta anche nella fine settimana farà un giro speriamo di poterlo fare sì fuori dagli impegni della famiglia volentieri è un appassionato di questo sport? sì abbastanza quando il tempo permette il lavoro il resto del tempo domenica invece è in famiglia come diceva? in famiglia nonni sì una tradizione dice quello allora ed è la zona abita qua Senigallia? Iesi quindi questa mattina è arrivato direttamente da Iesi adesso devo tornare sarà un problema però proviamo Marco lei è titolare di un ristorante e gestore di una spiaggia abbiamo visto anche le persone al lavoro siete pronti per accogliere Senigalliesi e non solo? siamo pronti ancora non definitivamente però ci stiamo preparando per accogliere perlomeno i turisti pasquali e i nostri ospiti con cittadini e quant'altro che arriveranno perché ho visto che il tempo sarà bello il fine settimana quindi aspettiamo parecchia gente ufficialmente la stagione balneare per voi quando partirà? la stagione balneare partirà il primo di maggio come sempre quindi faremo un primo di maggio sempre in spiaggia come tutti gli anni con i nostri clienti e speriamo che la stagione sia buona quest'anno perché le prerogative e le ansie sono tante aumenterete i prezzi? c'è un ritocchino ma poco 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 sono 4 anni che non ritocchiamo che stanno più o meno sarà un 5% di aumento anche gli albergatori sono pronti ad accogliere i turisti torniamo in provincia di Pesero Urbino Cecchini si avvicinano le vacanze arrivano i turisti qual è la situazione nei nostri alberghi? allora siamo tutti pronti per questo esordio di Pasqua perché in fin dei conti già abbiamo avuto un ottimo lavoro con gli eventi sportivi abbiamo riempito diversi alberghi sono stati molto contenti la gente ha parlato molto bene della nostra città con un riscontro naturalmente che verranno qualcuno anche in vacanza quello che vediamo a Pasqua ci sono diverse pronotazioni si stanno venendo anche gli stranieri che era da anni che non li vedevamo per il corso ecco oppure negli nostri alberghi quello che è importante in questo momento è il tempo se avremo delle giornate bellissime io penso che la gente si fermi perché faranno un discorso itinerante non è il turista che pronota ma è il turista che viene vede la bella città e si ferma questo è molto importante ci sono diverse novità per questa fine settimana che è la settimana di Pasqua intorno a noi sta girando parecchia gente ma quello che avremo un esordio è a maggio a maggio con gli eventi sportivi perché l'8, 9, 10 e l'11 di maggio ci saranno tantissimi eventi tipo la Colle Marathon il campionato di paracodutismo e di riflesso avremo il raduno degli alpini a Rimini e sta portando molta gente anche nelle nostre zone a Monbaroccio è partita la riqualificazione della cinta muraria l'intervento prevede la messa in sicurezza il recupero e la prevenzione del dissesto idrogeologico delle mura del 1500 il costo complessivo è di 200 mila euro recuperati da un bando ministeriale altri lavori poi come ha riferito il sindaco Petrucci riguardano sia la pubblica illuminazione con nuovi punti luce anche a led all'altezza dell'incrocio con la marchigiana mobili invece in via Pontaccio verrà riqualificata la cosiddetta via dell'acqua con il recupero della viabilità i lavori che termineranno entro l'estate prevedono la regimentazione delle acque pluviali e l'illuminazione della sorgente così da poterla utilizzare anche in orario notturno a Fermignano invece sono stati inaugurati i lavori di riqualificazione di via Tasso l'intervento ha spiegato il sindaco Feduzzi è iniziato grazie alla scelta da parte dei residenti di Cavanzino espressa con il referendum della nuova viabilità e poi con i due step di progettazione e realizzazione in due anni sono stati investiti oltre 270 mila euro che hanno permesso di creare il nuovo marciapiede asfaltare la via e rifare completamente la pubblica illuminazione un intervento che ha dato un nuovo volto e maggiore sicurezza al quartiere taglio del nastro anche a Pesaro dove si sono conclusi i lavori di rifacimento del parcheggio di via Tasso e la messa in sicurezza della Genica in zona Loreto un intervento della regione importante per la sicurezza idrica della città il sindaco Matteo Ricci oggi ha ricordato anche i progetti in cantiere per la zona verrà rivista la mobilità detto con una parte dei ricavati dalla vendita dell'ex bocciodromo verrà ridisegnato piazzale Mattiotti verrà realizzata la ciclabile in via Cialdini che sarà al centro della carreggiata Ricci ha poi approfittato della presenza dell'assessore all'edilizia pubblica della regione Stefano Guzzi e dell'architetto Taffetani del genio civile per porre attenzione su una questione che aspetta una risposta il collegamento ciclabile in via Belgioioso in prossimità del cimitero un attraversamento pericoloso per chi va in bicicletta ci spostiamo nella comune di Mondolfo dove è stato presentato il calendario degli eventi estivi prenderà il via sabato 23 aprile il calendario degli eventi che caratterizzerà la prossima stagione turistica e culturale di Mondolfo Marotta l'amministrazione alla presenza degli operatori del settore e dei rappresentanti delle associazioni ha illustrato le numerose iniziative tra conferme e novità che animeranno i prossimi mesi per il sindaco barbiere sarà l'estate della ripartenza un calendario molto importante con tante iniziative con il coinvolgimento di tutti gli assessorati dal turismo alla cultura alle tradizioni locali allo sport quindi tante iniziative a partire da aprile fino a settembre per allungare appunto anche la stagione turistica iniziative nel segno delle due vacanze in una il nostro logo turistico quindi ci saranno tanti eventi sia a Mondolfo nel nostro centro storico e naturalmente nel lungomare di Marotta la stagione è già partita alla grande ha poi sottolineato l'assessore al turismo Davide Caporaletti infatti stanno arrivando tante prenotazioni che fanno ben sperare un calendario molto ricco e variegato proprio per cercare di essere più attrattivi possibili per dare ai nostri turisti ecco la gioia di tornare a vivere dopo tre anni di pandemia c'è veramente tanto bisogno di sorridere c'è tanto bisogno di stare insieme c'è tanto bisogno di spensieratezza e penso che questo calendario vada proprio in quella direzione ad aprire le danze toccherà alla tradizionale Sagra dei Garagoi la Sagra dei Garagoi che è arrivata alla sua 73esima edizione finalmente torna dopo questi due anni di pandemia e stiamo organizzando finalmente di nuovo riportiamo questa sagra importante nel territorio di Marotta quest'anno sarà in piazza dell'unificazione faremo soltanto a sport non come gli altri anni che c'erano anche i ristoranti ok perché ci avvaliamo poi della disponibilità dei ristoratori ovviamente della zona che noi come tradizioni culinarie andiamo molto bene quindi non ci sono grossi problemi ovviamente quindi ci sarà questa Sagra dei Garagoi che faremo poi quindi con la sport ci saranno diversi eventi quest'anno faremo 23, 24, 25 e il 30 il primo maggio infatti proprio per quella data abbiamo aggiunto poi due eventi particolari che uno è Bicio che racconterà delle barzellette e poi ci sarà della musica con un gruppo che suonerà che si chiamano i Sunbeat Air scusate l'orchestra che praticamente fanno della musica appunto per aglietare poi il pomeriggio e ci sarà anche la Martinica che girerà per la Sagra e quindi sarà un momento di festa e di spensieratezza che finalmente ne abbiamo bisogno ad illustrare le altre manifestazioni è il consigliere con delega alla cultura Evan Mattioli gli eventi più tradizionali quelli che già facevano parte della nostra offerta negli anni precedenti vedi teatro in piazza presso la piazza del comune di Mondolfo dove ci sarà la possibilità di ridere e stare un po' leggeri seguendo le commedie delle principali compagnie teatrali del nostro territorio non solo poi avremo a Prodi Letterari che tornerà sempre in collaborazione con le associazioni del nostro territorio oltre a questo già da maggio dal 18 al 24 maggio avremo il festival internazionale del mosaico grazie all'associazione chiaroscuro come novità quest'anno verrà presentata una prima edizione di una rassegna letteraria come un libro all'aperto il tema di questa prima edizione sarà leggeri e pensanti la data del 7 luglio sarà in collaborazione con un'altra rassegna già storica che è non a voce sola oltre a questo ovviamente ci saranno due eventi altri due eventi uno dei quali rappresenta una novità ad agosto avremo il concerto di una bravissima pianista Irenia Stella e in più a settembre avremo il 25 di settembre in occasione della patrona Santa Giustina ritornerà la rassegna la sedicesima edizione della rassegna Castelli d'Aria dove ci sarà la possibilità di valorizzare anche quello che è l'organo storico che è all'interno di Santa Giustina quindi queste tante altre possibilità di offerta turistica si aggiungeranno e quindi altri eventi verranno aggiunti nei prossimi mesi questi i principali Ancora iniziative perché l'associazione naturalistica Argonauta ha organizzato una serie di incontri dedicati alla conoscenza degli animali presenti nella città di Fano Conosciamo animali della nostra città è il nuovo progetto che porta avanti Argonauta e ha come obiettivo quello di far conoscere gli animali della zona ai nostri cittadini parleremo infatti di come riconoscere i invertebrati come riconoscere i ragni come riconoscere i mammiferi come riconoscere gli uccelli e appunto l'obiettivo è quello di creare una sensibilità diciamo scientifica se vogliamo nelle persone nei nostri cittadini insomma Ogni corso è gratuito ed è aperto a tutti l'importante è per notarsi al numero dell'associazione che è il 328-616-3202 I corsi continueranno fino al mese di ottobre e affronteremo i vari temi per esempio affronteremo il discorso del lupo parleremo di quali sono gli uccelli che si possono trovare al metauro e o comunque che migrano insomma sui nostri cieli parleremo dei ragni quindi anche del ragno e violino parleremo degli invertebrati questo corso è possibile grazie al contributo del csv ogni incontro verrà registrato e caricato per intero sul nostro canale youtube dell'associazione per chi volesse magari approfondire e conoscerci meglio può seguire i nostri nostri canali social o il nostro sito argomatofano.org è stato riqualificato il basamento della statua dell'Isippo posizionata al porto di Fano è stata sostituita anche la targa che era ammalorata la statua realizzata dall'artista fanese Paolo Furlani è copia dell'atleta di Fano anche noto come atleta vittorioso attribuita allo scultore greco l'Isippo la targa ricorda il ritrovamento avvenuto nel 64 nel mare adriatico ad opera del peschereccio fanese Ferruccio Ferri altre persone che hanno deciso di sostenere Fano TV e a cui va il nostro ringraziamento Luca Pierantoni e Michele Spadoni grazie anche a voi tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla promozione turistica di Fano alla Borsa Internazionale del Turismo che si è svolta a Milano nei giorni scorsi grazie per la vostra attenzione l'informazione torna domani mattina con Massimo Foghetti alle ore 7 arrivederci